Questa mattina siamo alla Garbatella, perdonate questa voce, è raffreddore. Dietro le mie spalle vedete questa zona ex mercati generali. Allora informiamo tutti i cittadini romani che per questo splendore sono già stati spesi 100 milioni dei nostri soldi. Il progetto è un progetto del 2003, risale alla giunta Veltroni e dopo 13 anni non se ne è fatto niente. Magnifici progetti di carattere culturale e purtroppo nessuno ha poi trasformato questa cosa in un servizio ai cittadini di Roma. Vogliamo farla finita con questi sprechi e noi crediamo che Roma merita davvero, merita di più a incominciare da progetti come questo.